Sono ben 35.000 gli alberi da abbattere a Roma perché malati. L'ha annunciato l'assessorato all'ambiente, crolli e altre tragedie sfiorate sui lungo Tevere, all'Aventino, a Villa Gloria, a Garbatella, in zona Ostiense, al Prenestino, in tutta la capitale. Insomma, è un problema anzitutto di sicurezza, tanto che in caso d'allerta vento il Comune spesso ha dovuto chiudere parchi e cimiteri perché zone a rischio, anche se censite. Finora gli alberi controllati sono 80.000, di questi la stragrande maggioranza, 70.000, è stata appotata, spesso in maniera robusta, mentre su 3.000 piante non è stato necessario far nulla. I restanti 7.000 alberi invece erano tutti morti in piedi e per loro non c'è stata altra possibilità se non l'abbattimento. Gli ultimi due ieri su Viale Tiziano. Ambientalisti e comitati di quartiere protestano, ma il Comune, che comunque ha in corso anche un piano per la ripiantumazione, va avanti senza perdere un minuto, visto che anche gli alberi giudicati sani dagli agronomi come quello sulla Colombo possono riservare brutte sorprese.